No, 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 noi non ci rassegniamo, perché noi viviamo, perché noi ci siamo. Lavoro in corso, quindi parleremo dei vostri progetti, delle vostre idee, di qualsiasi cosa vogliamo proporre qui, quindi lavoro in corso a 360 gradi. No, 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 no. Parleremo di voi, delle cose che succedono, ahimè anche quelle bruni. No, 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 noi non ci rassegniamo. Lavoro in corso e il vostro programma. No, 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 no. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Siamo nell'Anfiteatro di Fagnano Castello con Irene Orso Marso. Quindi parleremo veramente di tutta la programmazione, ma prima di tutto parliamo anche dei literari e del nuovo incarico che ti è stato dato. E secondo me hanno fatto benissimo, carai Elena. Grazie. Buonasera a tutti. I literari nascono come gruppo teatrale da un'occasione inattesa, non programmata. Il nostro Alessandrino Quintieri, presidente onorario e scrittore delle commedie, con l'aiuto di fidati collaboratori che sarebbero diventati pilastri dell'attuale associazione, per una festa rionale ha allestito uno spettacolo. E dal successo che ne è derivato si è passate alla costituzione di una vera e propria compagnia teatrale. Quindi quella festa rionale si è rivelata nel tempo l'occasione di una crescita che avrebbe abbracciato l'intero paese. Infatti negli anni si sono alternati sulle nostre scene talenti che nessuno avrebbe mai notato, eppure capaci di divertire il pubblico e soprattutto di maturare insieme ai literari stessi, in quanto lo spirito sin dai primi tempi è stato proprio quello di condividere un processo di sviluppo che partisse dall'arte, attraversasse la cultura, le tradizioni popolari ed arrivasse al cuore di tutti i piccini e grandi. Di educare al teatro le fasce della popolazione fagnanese è lo scopo dei literari che sono onorata di rappresentare in prima persona, questo in generale, in particolare di Amateatro che partirà venerdì 8. Edizione 2016 è la terza, no? È la quarta edizione, Amateatro si arriva alla quarta edizione, siamo felici ed orgogliosi del successo conseguito. All'inizio non ci aspettavamo il favore che abbiamo incontrato, invece siamo stati premiati dal pubblico, ma anche da altri enti importanti che ci tengo a ricordare e a ringraziare il Comune che sin dalla prima edizione, cioè dal 2013, patrocina Amateatro e la FITA, la Federazione Italiana di Teatro Amatoriale, che l'anno scorso ci ha accolto nel suo circuito e facendo in modo che Amateatro diventasse rassegna nazionale, e quindi potesse inglobare nel suo programma annuale spettacoli di diversa provenienza. L'anno scorso sono stati qui con noi amici, attori brillanti della Sicilia, della Campania, della Puglia. Quest'anno abbiamo mantenuto questi contatti ed allacciato nuovi rapporti, quindi, come dicevo all'inizio, Amateatro è una famiglia che comprende più spazi, comprende più anime, non solo i litrari che durante l'anno curano la preparazione dello spettacolo, ma anche la forza del Comune, la fiducia del pubblico e la voglia di collaborare, di mettersi in gioco degli attori e degli accompagnatori degli altri gruppi che, ripeto, inizialmente provenivano solo dal territorio calabrese, adesso invece arrivano anche da realtà più lontane, lontane geograficamente, ma vicine per interessi a quello che è il nostro universo di valori, di sentimenti, di emozioni, quindi Amateatro è davvero un ventaglio ricco di opportunità per Fagnano e per quanti vi aderiscono. Bene, allora prima di entrare nella parte più, come dire, quella più importante, parliamo addirittura della manifestazione, ma anche di tutte le date, parliamo anche dei litrari, perché non solo si occupano della promozione dell'arte, e quindi dei talenti, ma si occupano anche di aggregazione, quindi come associazione, chiaramente i litrari sono aperti un po' a tutti, quindi chiunque si sente attore incompreso, di quello che si parlava prima, può partecipare tranquillamente alle vostre attività, di questa grande famiglia, come si diceva, perché effettivamente basta solo avere un requisito, probabilmente la voglia di fare, giusto Irene? Sì, tutti possono partecipare, io invito caldamente quanti avessero la curiosità di scoprirci, meglio di avvicinarsi senza esitazione. La nostra, dici bene, è una grande famiglia, io la descrivo come una tavola imbandita, all'interno di una casa la cui porta è aperta a tutti, anche perché le attività sono tanti, i ruoli, le parti da assegnare sono differenti, abbiamo bisogno di menti, idee, creatività, energie, che confrontandosi, misurandosi le une con le altre e combinandosi, possano portare i risultati che stiamo sperimentando di anno in anno, quindi benvenga che il nostro cerchio si allarghi. Entriamo adesso nel vivo della nostra trasmissione, quindi parlare del caso specifico di Ama Teatro, quindi del nostro lavoro in corso. Inizierà tra giorni l'Ama Teatro, quindi questa manifestazione al quarto anno è ogni anno sempre più successo, bisogna dirlo, questo l'anno scorso è arrivato al massimo, quest'anno sicuramente supereremo tutte le nostre, almeno questo è il nostro augurio chiaramente. Questo perché facciamo non solo lustro, diamo spazio alla promozione dell'arte, in questo caso del teatro, ma diamo spazio soprattutto a queste persone che hanno questo talento nascosto, quindi saranno tutti non professionisti, ma con una passione che è quella poi che condivide un po' tutti, quella del teatro, e un teatro simpatico, allegro, che possa soprattutto far sorridere la gente, quindi non vedremo delle opere, come dire, mosce, ma vedremo delle cose abbastanza ironiche, e comunque il messaggio è soprattutto di dare un sorriso, regalare un sorriso un po' a tutti, voglio dire, quindi parliamo un po' di questa manifestazione, inizierà quando e quali sono tutte le altre appuntamenti. Ci siamo a Ma Teatro e alle porte, la manifestazione si aprirà venerdì 8 luglio e si svolgerà in 10 serate fino a settembre, 8 riservate alla gara, al concorso delle compagnie che hanno aderito al progetto del 2016, due alla compagnia dei litrari. Una prima serata vedrà protagonisti piccoli litrari, l'altra invece presenterà lo spettacolo dei litrari più adulti. L'8 luglio avremo in scena gli attori di Gravina di Puglia, la compagnia pugliese della terra smossa, che presenta lo spettacolo dal titolo Un tram chiamato Desiderio, un classico del teatro. Un testo più impegnativo che dimostra il fatto che il nostro intento sia quello di educare all'incontro con il teatro, che non equivale solo alla risata grassa, ma alla riflessione. Amateatro vuole essere una scuola, una palestra di vita, che attraverso gli spettacoli teatrali, avvicinando, come ho già detto, più fasce di età, possa sollecitare ad osservazioni, a riflessioni, che partano dal sorriso oppure dal confronto con delle storie, degli intrecci, delle trame più seriose. Quindi iniziamo con uno spettacolo dall'articolazione complessa, meno convenzionale, uno spettacolo di spessore, che è stato scelto per la bravura degli attori, oltre che per il rapporto vincente, per il rapporto fruttuoso che è stato allacciato con la compagnia pullese, che è stata nostra ospite l'anno scorso. Gli attori di Gravina di Puglia durante l'anno hanno mantenuto in modo davvero sentito i contatti. Questo ci ha dimostrato il fatto che si siano trovati bene, si siano sentiti accolti, abbiano lavorato felicemente con noi e quindi seguendo la scia dell'anno scorso, considerando, come dicevo poc'anzi, la portata dello spettacolo tutti gli aspetti che ho appena elencato sul piano umano abbiamo ritenuto opportuno nel riconfermare la presenza di questi attori eccezionali. Amateatro 2016 nel suo calendario nasce da un'attenta, una studiata analisi, da una selezione che è stata curata da esperti. La commissione infatti guidata dal nostro regista è direttore artistico il dottor Guerino Avoglio che ha avuto la responsabilità all'arrivo delle richieste di valiarle e di valutare insieme ad altri collaboratori quali potessero essere le proposte convincenti fino alla scelta definitiva. è fatto infatti che Amateatro, grazie al rapporto con la fita nato nato l'anno scorso sia oramai una rassegna nazionale corrisponde annualmente alla pubblicazione di un bando. Nel mese di giugno è stato pubblicato il nostro bando abbiamo dato il tempo necessario alle varie regioni editali organizzate in associazioni, compagnie teatrali di preparare il materiale volendo partecipare e quindi scaduto il termine la commissione che ho appena menzionato si è riunita per ovviamente organizzare la manifestazione selezionando i protagonisti. Quindi la prima scelta è ricaduta su Gravina di Puglia che avrà lo spazio della prima serata nel corso della seconda prevista per il 15 luglio avremo invece con noi gli attori di Isola Capo Rizzuto della compagnia Il Sorriso che sta preparando per noi lo spettacolo dal titolo Tra moglie e marito. Anche gli attori di Isola Capo Rizzuto hanno partecipato a precedente edizione di Amateatro insisto su questo aspetto perché credo che sia il sintomo la prova evidente del fatto che i rapporti di collaborazione nati e mantenuti siano fruttuosi siano felici ovviamente nella scelta delle compagnie nell'organizzazione dello spettacolo non incidono i rapporti di affetto di simpatia sono sicuramente influenti ma il peso decisivo ovviamente è della serietà dell'impegno quello della qualità degli spettacoli e senz'altro sia gli attori di Gravina di Puglia che gli amici di Isola Capo Rizzuto si sono distinti nelle precedenti edizioni per gli spettacoli e i brillanti hanno curato i dettagli tanto da conseguire non solo il successo del pubblico ma anche quello della giuria che hanno guadagnato il favore della giuria portando a casa diversi premi la terza serata quella del 24 luglio vedrà come protagonisti gli attori di una compagnia napoletana Lasciatevi incantare che porterà sulle scene dell'anfiteatro Luigi Turco il classico Filumena Marturano tanto atteso che senz'altro sarà apprezzato come gli altri spettacoli emozionerà dico come gli altri perché io sono certa non solo perché ho avuto modo di visionare degli spezzoni delle parti degli spettacoli ma proprio perché tali occasioni non possono che risolversi in questo tutti gli spettacoli saranno forieri di emozioni non solo di risate ma anche di riflessioni quindi saranno momenti di apprezzabile crescita il 29 avremo gli amici di Cassano con lo spettacolo Il primo amore non si scorda mai e gli attori di Cassano hanno dato prova della loro bravura nel circuito di Amateatro l'anno scorso sono entrati a far parte della nostra famiglia nell'edizione del 2015 il 5 agosto avremo qui con noi la compagnia teatrale Tortorese di Tortora con lo spettacolo dal titolo La Giusta Misura Tortora torna per la quarta volta è una delle compagnie che ha creduto in noi dall'inizio si è trovata bene ci ha seguito si è riproposta nel tempo ed è stata confermata per lo spirito di adesione di collaborazione senz'altro importante e c'è ancora il 10 quindi ogni venerdì ecco questa cadenza la specifichiamo in modo che chi è interessato sa che ogni venerdì c'è questo appuntamento ben preciso qui a Fagnano Castello nell'Aviteatro Luigi Turco il nostro caro amico che purtroppo è scomparso prematuramente ormai è passato già un anno anche se ci sembra un po' di meno noi porteremo nel cuore abbiamo dedicato questo questo anfiteatro perché era anche lui uno con la passione e soprattutto era una bravissima persona quindi la ricordiamo tutti la teniamo nel cuore e abbiamo pensato un po' di dedicare questa struttura in modo che possa rimanere sempre presso questo nome Luigi Turco ecco questo ci tenevo a dirlo perché l'abbiamo conosciuto e sai e sappiamo che persona meravigliosa era allora andiamo avanti con il programma è il 10 agosto sì prima di andare avanti con il programma ci tengo a riallacciarmi alle tue parole l'hai fatto tu ma anche io nel mio discorso prevedevo di dedicare uno spazio al ricordo del nostro carissimo Luigi al quale è stato dedicato l'anno scorso proprio nella prima serata dell'edizione 2015 e l'anfiteatro per noi l'Itrari la perdita di Luigi è corrisposta ad un momento di debolezza di tristezza mancavano le forze però proprio il ricordo della passione dell'impegno profuso nel tempo all'interno dell'associazione del caro Luigi è stato uno stimolo di conseguenza abbiamo raccolto le forze e le abbiamo investite in amateatro e nelle altre attività che ci coinvolgono per onorare la sua la sua memoria tornando al calendario il 10 agosto saranno nostri ospiti gli attori di San Marco Argentano del gruppo teatrale quelli che che stanno preparando lo spettacolo musicale intitolato a Don Bosco uno spettacolo che è atteso dalla nostra realtà fagnanese alla quale Don Bosco è caro e che coinvolgerà non solo adulti ma anche bambini penso proprio che il gruppo San Marchese esegua il modello che c'è caro su cui noi stiamo impernando le attività e i lavori e come abbiamo parlato di Don Bosco chiaramente le campane suonano a festa perché questo grande uomo questo grande uomo di fede di chiesa è stato sta facendo ha fatto quest'opera di tenere vicino i giovani e quindi di trovare alternative magari anche l'arte perché era una delle cose che utilizzava per tenere vicini i giovani quindi anche Don Bosco in un certo senso ci ha insegnato ad amare i giovani e ad avere fiducia in queste persone sì è proprio così lo spirito dell'aggregazione della collaborazione è quello che anima tutte le nostre attività che spaziano nei vari campi del sapere delle tradizioni e dell'arte ci impegniamo non solo nell'allestimento della rassegna teatrale o di singoli spettacoli proposti dagli attori dei litrari ma anche in altre attività a stretto contatto con differenti realtà dal centro anziani agli istituti scolastici presenti su Fagnano quindi ci tengo a fare presente questo che i litrari si dedicano non solo all'attività teatrale articolandola negli spettacoli e nella manifestazione di Amateatro ma sono attenti anche ad altre realtà con le quali poter dialogare il dialogo artistico e il confronto è l'obiettivo comune che ha portato più associazioni dai castagnari ripeto al centro degli anziani alla scuola a lavorare proficuamente insieme bene poi abbiamo il 19 ecco già vediamo i titoli anche in vernacolo no? perché bisogna dire questo quindi pariano i stessi pariano i stessi sembravano gli stessi sembravano gli stessi non sappiamo ancora come si scopriranno i protagonisti dello spettacolo in preparazione a Mangone la compagnia teatrale mangonese si è distinta nell'universo di Amateatro vincendo per ben due volte il primo premio ma portando a casa anche altri riconoscimenti quindi il pubblico fagnanese è affezionato ed aspetta gli attori di Mangone puntualmente ma ci tengo a precisare che l'attesa trepidante è per tutti e poi abbiamo questo pezzo di torta come dicevi prima che secondo me è la ciliegina sulla torta del litrario quindi abbiamo un appuntamento proprio con i piccoli litrari questa piccola compagnia che oltre ad avere la vostra esperienza chiaramente che gli state tramandando cercate comunque di formarli ma anche hanno questo talento naturale che riescono a sprigionare l'abbiamo vista in più occasioni e veramente simpaticissimi sembrano veramente dei piccoli uomini degli uomini proprio fatti con le movenze eccetera bisogna dire che sono veramente bravi sì il ruolo di presidente assegnato ad una figura giovane come la mia è lo spazio la fiducia riservate ai piccoli litrari sono il segno dell'elasticità dell'apertura mentale dei padri fondatori dei litrari che vogliono conservare e trasmettere alle future generazioni del paese i sacrifici le speranze i sogni di tanti anni di lavoro quindi con la loro preziosa guida cercheremo di protrarre l'esempio nel tempo grazie a loro che possiamo godere di questa celebrità perché in una realtà piccola come Fagnano essere riconosciuti ed apprezzati come attori mi riferisco ai bambini è un motivo di gioia per i singoli ma anche per le famiglie i piccoli e i litrari portano ebrio vitalità freschezza con la loro intelligenza ci regalano sorrisi ma anche degli esempi che sono senz'altro da tenere in considerazione come dicevo prima il fatto che si riuniscano attorno a noi non nasce solo dalla necessità di intrattenersi in modo leggero ma anche dalla voglia di imparare quindi impariamo a vicenda non si finisce mai di imparare non c'è un'età per farlo quindi anche i piccoli ritrari insegnano oltre che attingere dal nostro bagaglio di conoscenze quindi ci rallegreranno con lo spettacolo dal titolo Fortuna e Viata Chilinitena una delle commedie di Alessandrino Quintieri che è stata rappresentata pochi anni fa che ha goduto di particolare successo nella nostra comunità e che quindi riproponiamo cambiando Foggia vestendo i bambini dei panni dei personaggi del testo di Sandrino il 28 invece avremo con noi l'ultimo gruppo in gara gli amici del teatro di Vittori vincitori dell'anno scorso con uno spettacolo dal titolo Delitto a Villa Rong e siamo sicuri che come l'anno scorso conquisteranno le simpatie del pubblico ma non della giuria lo sottolineo perché ovviamente i giurati saranno imparziali e seri nel loro compito e poi ci saranno i litrari che chiuderanno questo carnet di attori non professionisti quindi direttanti però veramente con un talento innato dai piccoli ai grandi e ci sarà appunto con una nuova commedia perché ogni anno c'è una commedia nuova perché tutto l'inverno poi si lavora su questo e quindi parliamo un po' di questa commedia in modo che cercheremo di anticipare quello che si può anticipare perché chiaramente aspetteremo tutti con trepidazione il 2 di settembre il 2 settembre è la serata conclusiva articolata in due momenti il primo è quello dedicato allo spettacolo preparato durante l'anno dai litrari in Trillazzi e Don Bippino la parte finale corrisponde alla premiazione saranno riconosciuti i meriti di tutte le compagnie immagino che come nelle precedenti edizioni anche quest'anno sarà ardu il compito della giuria vorremmo premiare tutte le compagnie che hanno partecipato per la devozione per la passione dimostrata rispetto al teatro ma anche per le accortezze e le premure che hanno avuto nei confronti dei litrari e di tutta la comunità d'altra parte bisogna riconoscere a Fagnano la capacità di ospitare i gruppi provenienti da altre regioni quindi ringrazio il pubblico che ha riservato sempre calore alle compagnie di Amateatro e ovviamente all'amministrazione comunale che si è impegnata nell'accoglienza Amateatro è uno scambio di tradizioni di culture non è soltanto un confronto teatrale chiaramente ci sono dei premi che la giuria è questo bellissimo compito ma anche difficile perché giudicare è già difficile in se stesso voglio dire poi dopo tutto questo lavoro che si sa che c'è dietro perché anche voi lavorate con la vostra compagnia quindi sapete quali sono i sacrifici è un po' difficile quindi ci saranno comunque dei premi ci saranno quali sono i premi e se c'è anche qualcuno che le offre è giusto citarli certo come nelle precedenti edizioni anche quest'anno dice bene Gennarino il compito della giuria sarà ardo perché dal calendario si capisce quanto possano essere preparate e valevoli le compagnie in gara ma i componenti membri della giuria avranno le competenze per arrivare alla scelta più opportuna i premi che verranno conferiti sono diversi abbiamo infatti previsto anche quest'anno premi per gli attori protagonisti non protagonisti un premio alla regia e ovviamente il primo premio alla compagnia vincitrice il litraro d'argento gentilmente offerto dalle orafe tarsitano dalle sorelle tarsitano un altro premio che è nato con Amateatro è il litraro d'argento speciale offerto gentilmente da allora fa Paola Pacello destinata ad una personalità di spicco del territorio calabrese o nazionale una figura che rappresenti la passione per il teatro la letteratura la cultura un maestro di vita sulla figura però non diamo anticipazioni sarà una sorpresa bene allora adesso possiamo anche chiudere abbiamo parlato un po' di tutto se vuoi ringraziare qualcuno se no noi chiudiamo il nostro format qui all'aperto quindi la prima volta che l'abbiamo fatto in esterno e sinceramente penso che abbiamo avuto le campane cinquettino degli uccelli delle rondini che ci svolazzo attorno e quindi in un certo senso siamo stati bene all'aria aperta e ci siamo goduti appunto soprattutto l'aria di questo splendido paese Fagnano Castello come in apertura ringrazio tutte le forze che interagendo decidono il successo di Amateatro dei literari al comune alla fita al pubblico di Fagnano e alla scorta al seguito di persone che di anno in anno accompagnano le compagnie proprio l'arrivo dei gruppi è il momento che più c'è emozione ci soddisfa perché segna scandisce l'inizio di rapporti non solo teatrali ma umani quindi ringrazio tutti i membri tutti i partecipanti e ovviamente ringrazio voi per l'attenzione per l'opportunità che ci avete dato di illustrare il programma di quest'anno di ritornare indietro nel tempo ripercorrendo le tappe fondamentali del nostro percorso e di invitare quanti volessero farlo ad avvicinarsi alla nostra associazione culturale dei literari di Fagnano Castello bene grazie Irene allora a questo punto io mi rimetto il casco Irene perché il format prevede questo quindi ci mettiamo il casco e partiamo non in moto ma partiamo con i saluti allora chiaramente vi consigliamo di prendere l'agenda e disegnare ogni venerdì alle 21 a iniziare dal prossimo quindi già dall'otto saremo qui ad aspettarvi con i literari e soprattutto queste nuove compagnie che ci faranno compagnia no? con gioco di parole però è bello dirlo allora in questo caso se qualcuno vuole promuovere la propria idea la propria impresa la propria come dire iniziativa noi saremo sempre disponibili quindi basta soltanto venire da noi e dirci e organizzarci e soprattutto vi preghiamo di seguirci sempre sulla nostra rete Esaro TV la TV che volevi tu alla prossima no 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 noi non ci rassegniamo perché noi viviamo perché noi ci siamo no 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 ti rasia e non so non so no 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 ne ria kommt venire da noi lavori in corso quindi parleremo dei vostri progetti delle vostre idee de qualsiasi cosa vogliamo proporre qui quindi lavori in corso a 360 gradi parleremo di voi delle cose che succedono ahimè anche quelle brutte Lavoro in corso è il vostro programma